Ciao, sono Alfio Bardolla e questo è Vita da ricchi. Vita da ex ricco in questo caso, perché il titolo è Cosa fare se perdi tutti i soldi? Purtroppo, più di una volta, delle persone ricche sono arrivate qua da me in ufficio, si sono sedute e mi hanno raccontato storie dove hanno perso completamente tutti i soldi o quasi completamente il loro tenore di vita. Da persone che avevano aziende gigantesche, che per errori di boria hanno distrutto la loro situazione finanziaria oppure persone che in qualche modo si sono fatte ingannare e si sono fatte sfilare completamente tutto il patrimonio. La prima cosa che mi capita è che le persone vanno in uno stato profondo di depressione e cominciano a pensare quanto sono cretini, alle cose che avevano, agli sbagli, ai truffi, via dicendo. Ecco, una cosa molto strana che mi è capitata purtroppo spesso è che le persone non credono al fatto di essere stati truffati o che i soldi siano stati portati via con l'inganno. Mi è successo con delle persone che avevano investito in opere d'arte, avevano messo milioni di euro e poi avevano delle opere d'arte che veramente non valevano un euro. Mi è successo con delle robe, con delle fiduzioni, le cose sulla Svizzera, sempre questi magheggi, metti un euro però ne avrai cento. La prima cosa è affidarsi solo a cose ufficiali e se decidete di fare degli investimenti strani o quelli che io chiamo a champagne, dedicate una cifra che non sia più del 10% del vostro patrimonio. Perché il truffatore per il mestiere deve essere bravo a truffare, perché se no che truffatore è? Altre volte invece sono business andati male, quindi non c'è nessun dolo da parte della persona che ve l'ha presentato, semplicemente il classico ristorante che il calciatore, l'amico va, si mettono i soldi e poi in 6-8 mesi il business va male e ci si ritrova senza denaro. Quindi la prima cosa è risolvere la parte psicologica che vi devo dire è anche la parte più difficile. Adesso mi è capitato un caso di un ristorante, loro avevano messo tutto nel ristorante, tutta la famiglia, mamma, figlia, nipote, cugino, vivevano, lavoravano, tutto nel ristorante. Il ristorante purtroppo non è andato bene per dei fattori esterni alla loro capacità di fare da mangiare. La società di leasing si è ripresa tutto, immobili, e quindi loro non hanno più niente. Dall'oggi al domani non hanno più la loro attività. Stamattina avevo ceduto un messaggio dicendo io ero passato tutto il tempo a letto, sono depressa, e via dicendo. Quello che bisogna fare è a un certo punto, va bene, prendersi un giorno, due giorni, si può anche essere depressi per un paio di giorni, ma poi a un certo punto bisogna reagire e cominciare a fare un piano. Dimenticandosi di quello che si aveva prima, portandosi dietro però l'esperienza di non fare quell'errore. Una delle cose più brutte che si può fare è farsi guidare dalla paura. Quindi in quel momento bisogna discernere la paura reale dalla paura immaginata. La paura reale è chiaramente quella magari di non rifare a fine mese, di non avere soldi per mangiare. La paura immaginata invece è quella dove mi immagino scenari catastrofici. Molto spesso le persone cosa fanno? Avevano un'attività che è andata male, ne riapro un altro uguale. Ma se non funzionava prima come pensate di poterla fare rifunzionare dopo? State molto attenti alla parte psicologica, state molto attenti al fatto che se si è perso non si può vivere con lo stesso stile di vita di prima. Bisogna fare un drastico ridimensionamento dello stile di vita e so perfettamente che è una cosa dolorosissima, ed è una cosa brutta. Se avete figli abituati ad andare a una scuola privata, mettere in una scuola pubblica, è un trauma. Se siete sempre stati abituati ad andare al ristorante e non guardare mai la parte destra, incominciare a fare il conti in tasco, Dio c'ho i 20 euro, non c'ho i 20 euro per mangiare, incomincia ad essere una roba veramente drammatica. Però sappiate che far denaro è un mind game, cioè un gioco di testa. Quindi la prima cosa che va fatta va sistemata bene la testa. E poi cominciare a pensare come avere delle over performance, quindi risparmiare il minimo che serve di protezione per la propria famiglia e poi soldi che devono produrre altri soldi. Quindi che lavoro fanno i vostri soldi? Stanno lavorando o sono lì a guardare il sole a non far niente? Ecco, quello che dovete pensare è avete perso tutto, cambio la psicologia, vado avanti, riparto e ricreo. Riprogettate i vostri risparmi. Io sono Alfio Bardolla, questa è Vita da Ricchi e noi siamo la società per la libertà finanziaria. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.